Ciao ragazzi, bentrovati nell'oasi del rilassamento di Mary Jane, bentornati ragazzi, grazie, grazie di cuore per aver scelto questo video. Io spero di rilassarvi almeno un po' ed oggi lo farò con un video trigger dedicato appunto ai suoni e prenderemo questa mascherina insieme ad altri due trigger che vi farò vedere dopo, mascherina, squish, ci rilasseremo prima con questo, poi a proposito di questo ho un altro squish un progetto. No, non, non è vero. grazie a tutti 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 la metto sulla fronte per non costarmi il trucco grazie a tutti 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 da quanto ho capito adesso passiamo al mic bumping userò il fluffy mic, la copertura del microfono per fare questo suono qui che è fantastico ed ed infine passiamo ai ragni squisci grazie a tutti 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 grazie a tutti